Salute e solidarietà over 65, servizi alla cittadinanza e protezione civile. Sono le cinque aree in cui è organizzato il nuovo sito della Fondazione Arezzo Comunità che si chiama Punti Solidali, uno spazio web che offre informazioni sui luoghi dove le persone in difficoltà possono trovare aiuto. È una mappatura di tutte le esperienze di generosità e di solidarietà che vengono registrate nella città di Arezzo e che sono erogate dagli ormai 64 soci della Fondazione Arezzo Comunità, ovviamente non tutti quelli che questi servizi li danno quindi dal sociale al sanitario, dalle povertà alla disponibilità a dare dei servizi aggiuntivi tutti coloro i quali queste cose le offrono vengono censiti e mappati. Non ha solo il significato di dare risposta a chi ha bisogno di qualche cosa ma ha anche la possibilità di offrire a chi vuole dare una mano una sorta di censimento di che cosa può fare per entrare dentro un sistema che già aiuta. Quindi ha due direi finalità. Una è quella di mettere il cittadino nelle condizioni di sapere tutto quello che accade e che ha a che fare con la donazione, con il volontariato ma dall'altra anche quello di dare al cittadino che ha un afflato di generosità ma non sa come fare la possibilità di sapere e di capire dove andare per dare una mano. Come sta la nostra città da questo punto di vista? Ce lo siamo detti tante volte in occasione dei rapporti sulla povertà piuttosto che altri dati che magari arrivano dall'Istat. La nostra è una città che nel 2023 ha visto 9.576 aretini seguiti dai servizi sociali del Comune di Arezzo quindi praticamente il 10%. È una città come tutte le città medie che cominciano a diventare grandi che ha delle sacche di povertà anche ignote, anche nascoste e che sono più note a chi in qualche modo è deputato a dare delle risposte. Al fronte di questo, che la rende una città come molte altre ha però una rete di solidarietà, di attenzione, di presenza e di prossimità che forse è abbastanza unica, abbastanza straordinaria. Quindi siamo nella media rispetto al disagio siamo, a questo è merito del terzo settore, non di chi governa la città nella straordinarietà della risposta. Questo permette ad una città che è il 10% degli aretini che stanno dentro i servizi, tutto sommato, di non rompersi come sistema.